Nel dicembre scorso si è reso responsabile di una rapina gravata ai danni di un istituto di credito di Barletta, la filiale dell'Unicredit Banca di VR Cofermi. In queste ore, personale di polizia giudiziaria del locale commissariato di Barletta, diretto dal dottor Luciano Di Prisco, in collaborazione con i colleghi del commissariato di Trani, ha tratto in arresto il pregiudicato tranese Emanuele Lomulino, 25 anni. Immediatamente dopo la rapina, gli agenti acquisirono i filmati dal sistema di videosorveglianza circuito chiuso installato presso la banca. Dalla loro visione è stato possibile ricostruire ogni singola mossa del malvivente e identificarlo nel momento in cui ancora viso scoperto era in procinto di indossare la calzamaglia al volto. Una volta all'interno dell'istituto di credito, Lomulino si è diretto verso l'unico sportello operativo e dietro alla minaccia di un taglierino si è fatto consegnare la somma in denaro di 1.500 euro dal cassiere. Compiuta la rapina ha obbligato quest'ultimo a seguirlo fino all'uscita per guadagnarsi in punito la fuga. Dopo la sua identificazione da parte degli investigatori barlettani, i filmati della rapina sono stati inviati i colleghi di Trani che ne hanno accertato il riconoscimento. Quindi, su richiesta del PM Michele Ruggero, titolare delle indagini, il GIP Francesco Zechillo ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di Lomulino, già sorvegliato speciale di PS. Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato associato presso la locale casa circondariale di Trani.